bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti in un nuovo video come avete visto da titolo oggi vi voglio presentare fare vedere bene da vicino la r18 titanium di casa tubertini un vero e proprio oserei dire gioiello perché flavio fai questo video a distanza ormai di diversi mesi dall'uscita di questa canna avendola già sul sito internet avendone già vendute parecchie e soprattutto personalizzandone veramente tante perché mi rendo conto che mai come in questa serie r18 di tubertini delle serie bolognesi c'è un po di confusione quindi inizio questa recensione cercando di schematizzare un po per semplificarvi e facilitarvi la scelta della vostra bolognese in base al tipo di pesca che fate il mondo r18 inutile dirlo materiale assolutamente rivoluzionario materiale top di gamma che crea e disegna e produce effettivamente dei veri e propri gioielli come vi dicevo prima e quindi devo dirvi che è un oggetto del piacere come tutti gli oggetti del piacere hanno delle piccole differenze tra di loro ma tubertini ci dà la possibilità di scegliere quindi mondo r18 bolognese serie 01 le serie adesso delle r18 si identificano quindi con il numero 01 r18 bolognese 01 tre serie diverse semplicemente ultra slim la 12 grammi la più leggera la medium 01 che è la 0 16 grammi quindi la media e poi abbiamo la 20 grammi che invece è quella identificata come con la scritta r18 e non c'è scritto altro quindi ultra slim medium e r18 classica chiamiamola così 12 grammi 16 e 20 questo è molto molto semplice cambia a parità di lunghezza chiaramente l'azione dalla più leggera a quella leggermente più pesante esiste poi la r18 long per chi dovesse avere delle esigenze particolari una serie di r18 costruite in 9 metri in 10 metri anche se disponibile nude montate ma chiaramente queste canne vanno secondo il mio punto di vista acquistate sempre nude facendole personalizzare magari anche da noi noi siamo diventati un po famosi in giro per il mondo della pesca diciamo così per le nostre personalizzazioni e arriva la r18 titanium quella che è la protagonista del video di oggi la r18 titanium ha le stesse caratteristiche costruttive di materiale della medium anche la stessa grammatura 0 16 perché flavio tubertini ha fatto un doppione sulla r18 medium facendo la r18 titanium in realtà molto simile in tutti i punti di vista quasi i diametri sono uguali quasi il materiale assolutamente uguale cambia l'estetica giustamente ma soprattutto cambia l'azione visto che il mondo della bolognese ci dà la possibilità di scegliere attentamente quelle che sono le varie azioni e tubertini ci ha abituato bene in questo perché no nel momento dell'acquisto avere diverse scelte ci permettono in maniera maniacale oserei dire decidere e trovare quale è l'azione giusta per quanto riguarda la pesca bolognese quindi la 0 16 che rimane la canna diciamo passatemi il termine più sfruttabile di tutte le altre perché di questa serie r18 perché è quella centrale e come in tutte le cose le canne centrali ti permettono di pescare molto sottile o anche un pochino più spesso fino ad arrivare chiaramente a dei limiti bene è giusto e avere questa centralità divisa addirittura in due possibilità diverse ora non mi voglio dilungare troppo l'ho già fatto e quindi adesso la andiamo a vedere da vicino vi faccio vedere anche un po le differenze estetiche di quello che sono la r18 titanium che è questa con la r1801 medium ma poi rimanete con noi perché sarà importante cercare di capire il perché e come soprattutto scegliere la nostra r18 giusta bene partiamo come di consueto dalla custodia una custodia chiaramente di alta qualità una custodia in velluto con la scritta stampata tubertini r18 eccola qua la scritta titanium in argento anziché oro come sulle r18 classiche in questo caso vi voglio fare vedere la 6 metri 0 16 grammi azione medium light chiaramente monotasca chiusura a velcro per la nostra custodia veniamo subito all'oggetto come vedete vi metto già subito immediatamente a paragone la r18 medium bolognese 0 1 quella che dicevo poc'anzi nella gamma di questa r18 0 16 grammi anche lei e qua abbiamo la r18 titanium andiamo a vedere la protagonista di questo video partiamo subito dal tappo come di consueto un tappo bellissimo in sughero l'avevo già detto che mi piaceva molto questa soluzione che unisce il moderno un po al classico e un riferimento al sughero ci sta proprio bene questo carbonio r18 meraviglioso contrassegnato da questo simbolo andiamo ancora avanti troviamo la parte dove possiamo andare a montare la nostra placca e attenzione da questa parte la scritta r18 titanium come dicevamo prima abbiamo una piccola chicca in questo punto che è dove solitamente si va a montare la nostra placca abbiamo la possibilità per chi a distanza vuole acquistare magari la placca perché ha comprato la canna nuda oppure magari noi vendiamo una canna nuda la dobbiamo montare abbiamo addirittura una scala misurata che ci dà la possibilità di preferire quindi di scegliere esattamente qual è il punto con delle numerazioni che vanno dal 45 al 59 si parla di centimetri rispettivi a quello che è il tappo della canna per poter capire per poter decidere dove mettere insieme la placca perché l'altezza della placca è una di quelle personalizzazioni credo che siano tra le più importanti andiamo un secondo a zoomare appena appena in modo per potervi fare vedere quello che dice la canna nella parte sotto btr qua abbiamo l'azione medium light abbiamo quello che è il sistema di resine by tubertini e qua abbiamo una cosa molto bella mi piace molto il serial number quindi questo ha un numero seriale che identifica appunto questa canna btr 18 0 1 0 9 il numero ad esempio di questa titanium nella parte sopra vediamo questa grafica molto bella questo nido d'ape tendenzialmente appoggiato sopra questo materiale meraviglioso re 18 la scritta titanium l'estetica qua mi piace veramente tanto ve la faccio un secondo ruotare fino ad arrivare poi a quello che è il tappo di chiusura di questa canna anche esso sempre in sughero molto carino anche questo vi faccio vedere sviluppiamo un secondo velocemente quelli che sono gli elementi della canna troviamo poi il la parte in neoprene che va a protezione e qua abbiamo il nostro oggetto quindi questo carbonio opaco molto molto bello vi voglio fare vedere anche se riesco una velocissima carellata su quella che era la r 18 precedente qui c'è il precedente scusate la 0 1 perdonatemi quindi un'estetica leggermente diversa abbiamo delle tonalità di colori diverse non abbiamo la scala graduata della placca questa è una chicca che mi piace molto sulla titanium e da questa parte abbiamo qua il nostro tappo con la nostra protezione anche in questo caso e tiriamo fuori gli elementi come vedete il carbonio è esattamente lo stesso tipo di carbonio su cui diciamo per il quale appunto la r 18 titanium è stata progettata quindi che cosa cambia in poche parole dall'r 18 medium 0 1 all'r 18 titanium pur essendo della stessa lunghezza dello stesso materiale e con la stessa grammatura le conicità e quindi le diverse azioni per quanto riguarda gli ultimi tre elementi della canna ma adesso rimanete con noi perché andiamo a vederla e andiamo scusate a parlarne un secondo insieme qualche consiglio sull'utilizzo e le vere differenze inizio questo terzo stacco con una parola che l'amico marco volpi ha utilizzato per spiegare brevemente la differenza fra una r 18 medium che è 0 16 grammi rispetto all'r 18 titanium che anche lei è 0 16 grammi la titanium rispetto alla medium è molto più rotonda questa parola è rotonda quindi identifica a pieno quello che è l'azione di questa canna canne che sono praticamente uguali come abbiamo visto in tutto e per tutto a parte l'estetica ma la titanium ha questi ultimi tre elementi che piegano un pochino di più quindi questa piccola particolarità nasce dall'esigenza di avere una canna medium leggermente più morbida leggermente più armoniosa nell'ultima parte devo dire che all'r 18 medium 0 1 grazie anche alla qualità del suo materiale estremo oserei dire è una canna che se fosse se fossimo nel mondo dello spinning avrebbe si sarebbe da definirsi come un'azione fast quindi una canna molto rapida molto veloce con il suo senso assolutamente ma la titanium concede un po di più lassù in cima quando una persona acquista un oggetto del genere e spende quindi 400 euro per una 6 metri circa e 500 euro circa per una 7 metri si parla chiaramente di canne nude poi ancora da montare capiamo tutti che è una spesa piuttosto elevata nel mondo delle bolognesi non c'è da stupirsi oggi per questi top di gamma e tantomeno non c'è da stupirsi per questi prezzi su questi oggetti che sono effettivamente diciamo molto molto particolari molto tecnici bene è giusto che nella tecnicità di questi oggetti i tubertini in questo caso ci dia la possibilità di avere questa piccola scelta se è vero che la 0 16 è un'azione centrale che ti permette di pescare con fili molto sottili e fili anche un po più maleducati è ancora vero è ancora meglio che questa titanium riesce a perfezionare questa centralità e questo tipo di pesca quindi r18 titanium una canna da potersi usare montata bolognese chiaramente da potersi utilizzare con fili molto sottili si parla tranquillamente con una buona con un buon braccio un buon mulinello con una buona frizione anche 0 10 senza assolutamente nessuna paura ma si può arrivare a fili anche piuttosto importanti di terminali 16 18 perché no anche uno 0 20 non lo disdegno chiaramente con le giuste attenzioni una canna che riesce ad avere una schiena che ti permette di salpare un pesce anche di peso sempre un peso limitato ma utilizzate sempre il guadino questo è il consiglio che vi da flavio di fisherlandia attenzione adesso creerò uno scalpore se voi vi ricordate un po di tempo fa vi ho presentato una canna bolognese di un'altra azienda e vi raccontavo che in estera non italiana e vi raccontavo che questa azienda appunto all'estero utilizzava questa canna anche come canna fissa eccoci allora ad oggi io vi devo dire che l'azione di questa r18 titanium non assolutamente precluderebbe come si dice assolutamente la possibilità di usarla anche come canna fissa la canna fissa ha delle particolarità tecniche la canna fissa deve seguire il pesce deve ammortizzare il pesce ma solitamente sono canne piuttosto morbide quando abbiamo bisogno di una canna fissa media anche in questo caso trovo molto interessante questa titanium perché abbiamo gli ultimi tre elementi che ammortizzano bene il pesce ricordiamo che nella pesca con la canna fissa non abbiamo un mulinello ma nello stesso tempo abbiamo una schiena un po più maleducata rispetto a quella che ha l'azione di una canna fissa classica che ci potrebbe dare una mano magari in scogliera su qualche sarago e via discorrendo quindi una canna ritornando al montaggio classico bolognese per quello che nasce non la voglio snaturare assolutamente ma seguite il mio consiglio perché non sarebbe una cosa malvagia provare una canna che si addice quindi alla spigola si addice quindi al sarago allorata si dice anche la pesca in acqua dolce senza ombra di dubbio passando dal caverano pescato con fili molto sottili arrivando magari a qualche carpa qualche pesce un pochino più pesante un pochino più maleducato magari in una corrente di un fiume che tira leggermente questa è una canna che vedrei assolutamente molto molto bene il prezzo ve l'ho già detto la 6 metri la 7 metri che sono le due canne scelte soprattutto prevalentemente per il loro utilizzo e l'abbiamo sul nostro sito internet circa 400 euro una e 500 euro l'altra se vogliamo parlare di montaggio un montaggio su una canna del genere chiaramente su un ferrari non si mettono quasi mai le gomme ricoperte a meno che uno lo voglia fare per carità un montaggio total fuji può essere può spaziare dal classico montaggio in alconite un fuji un concept fino ad arrivare al montaggio torsite importantissima quella che è l'allestimento la personalizzazione con questo concludo l'altezza della placca fondamentale in base alla vostra manualità in base al vostro tipo di pesca fondamentale altrettanto qua è una medium non si parla di una di un ultra slim anche la decisione la scelta di quello che sono i diametri degli anelli il tipo di ponte dell'anello molto importante sulla pesca bolognese fondamentale e importante anche la scelta e la scalatura di quelli che sono gli scoreboli sulla precima e sul cimino quindi la personalizzazione è possibile farla con l'aggiunta di 80 euro per un montaggio medio base e fino ad arrivare a montaggi anche molto più costosi con degli oggetti che anche loro fanno parte e coronano questo meraviglioso gioiello che è la r18 titanium mi piace davvero un voto un voto a questa canna non può chiaramente quest'anno faccio fatica a dare dei voti bassi perché ci sono tutti oggetti veramente di prima qualità do un voto assolutamente 9 a questa canna se li merita tutti potrei dare di più ma non voglio sbaccare come si dice un voto 9 perché non c'è niente su questa canna che non mi piaccia è assolutamente importante anche quello che è l'apporto dell'assistenza post vendita su queste canne la personalizzazione via discorrendo va bene ragazzi questa chiaramente le trovate insieme a tutte le r18 bolognese insieme a tutto il mondo tubertini sul nostro sito internet senza nessun problema vi lascio un linkato qua sotto in descrizione questi genere di canne per facilitarvi la scelta e il fatto di trovarle quindi a questo punto vi chiedo le solite tre cose continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al nostro canale youtube e assolutamente attivate le notifiche che per noi è sempre molto molto importante grazie per essere stati con noi anche in questa recensione vi do appuntamento alla prossima live al prossimo video mi raccomando a questo punto io e la tubertini r18 titanium estetica da paura vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi grazie a tutti